Kevin, benvenuto. Come stai? Vieni da un anno molto importante a Udine, forse il migliore della tua carriera. Grazie, sono contento di essere qui. Sì, diciamo è stato uno dei migliori perché anche l'anno con la SPAL e il primo di Serie A che ho fatto con loro è stato veramente un bel anno. Bologna, che tappa è per te? Che cosa rappresenta essere qui con noi? Per me è una tappa importante perché è una società solida nella quale si può lavorare bene. Conosci già il mister e anche qualcuno dei tuoi nuovi compagni? Sì, conosco il mister, lo staff e alcuni compagni ma vedo che i ragazzi sono tutti dei bravi ragazzi disponibili e farò sicuramente gruppo in breve tempo. Grazie. Grazie a voi.